Ciao, io sono Gaia e oggi vi farò vedere il mio maneggio. Il mio è della mia sorella, questo è il pad piccolo con il cavallo Shire Deep, questi sono i box fatti con lo spago, con i tre poni piccoli che sono ciuffetto, zebra, roxy, il sacchetto di mangini che abbiamo fatto nella mia sorella, il furcone che abbiamo fatto nella mia sorella, l'acqua, e poi dove avete vato le mollette. Qui ci sono due paddock con i poni Skyler e il Kinder, e ne abbiamo in strada. Qui ci sono i canini con una pianta finta, un uomo con un cecliccino, un panda, due cani, un cane lupo e un aschi, le sciosole fatte di tasso, il paddock grande con un cavallo il cavallo da guerra War, il cavallo da piantino, il campo con Magnum che fa la ricena di salto, Magnum fa la ricena di salto, ha superato lo stocco. E qua ci sono le scude che ha fatto il mio nonno, con Celestia, la cavalla di Celeste, Leila, la cavalla mia, e si chiama Ronnie, il cavallo nero. Questo è il nostro cartello e questo è tutto il nostro maniccio. Ciao! Ciao! Ciao!